Una legge per lo sviluppo turistico del territorio peligno oppure un'azione per l'inserimento di tale territorio nei progetti per lo sviluppo delle aree interne di Sulmona tra i poli di attrazione? L'economista sulmonese Aldoronci intende dire ai sindaci della zona, promotori di un'iniziativa legislativa sul turismo delle tre valli interne, che la regione riconosce incentiva le DMC per la promozione turistica e quindi, anziché proporre un'apposita legge, l'unica strada è quella di far inserire Sulmona tra i poli di attrazione, evitando la progressiva perdita di importanti servizi. C'è da riflettere sul fatto che a proposito di sviluppo turistico, prosegueronci, esiste già un impegno regionale e una struttura locale che se ne occupa. Una politica di sviluppo del settore turistico attraverso le DMC è stata messa in atto dal governo Chiodi e rilanciata dal governo D'Alfonso. Nel territorio Peligno è stata costituita la DMC, cuore dell'Appennino Terre d'Amore, della quale fanno parte 141 operatori, che si dovrà occupare di promuovere, incentivare e sviluppare il settore turistico sotto tutti gli aspetti. Pertanto, si chiede Ronci, quale significato concreto avrebbe un'apposita legge quando già esistono e sono operativi provvedimenti a favore del turismo di qualità per la Valle Peligna? Ronci invita i sindaci a preoccuparsi del declassamento che il territorio sta subendo. Il governatore D'Alfonso fa notare l'economista negli incontri tenuti a Castilenti e Chieti ha elencato le aree oggetto di progetti e tra queste rimangono fuori la Valle Peligna e l'Alto Sangro. Inoltre, il Dipartimento per lo Sviluppo Economico ha declassato sul Mona da polo d'attrazione ad aria intermedia, con la previsione che saranno gradualmente e progressivamente depoperati i servizi scolastici, sanitari e di mobilità. Per Aldo Ronci è necessario assolutamente che i sindaci del territorio peligno si mobilitino per chiedere alla Regione l'inserimento della Valle Peligna tra le aree interne abruzzesi che possono predisporre progetti di sviluppo e di recuperare per sul Mona l'inclusione tra i poli d'attrazione.